Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video parlerò oggi ovviamente come ogni volta delle pagelle perché ormai stiamo portando una bella abitudine quindi dirò la mia e voi direte la vostra innanzitutto iscrivetevi al canale mi raccomando eh mi raccomando iscrivetevi al canale se mi volete bene anche se mi volete male dai o se mi volete bene o se mi volete male iscrivetevi al canale del glass giallorosso ovunque parlerò oggi delle pagelle della partita di Pordenone-Lecce finita con risultati 1-1 partita tutto sommato giusto pareggio giusto anche se secondo me il Pordenone ha giocato molto meglio rispetto a Lecce voi mi avete detto che Lecce ha giocato bene secondo me ha giocato male poi non lo so ognuno ha la sua idea fatemi sapere ovviamente cosa ne penserete delle pagelle che resterò per dirvi e quindi partiamo dal portiere partiere diciamo Gabler un 6 più che giusto sufficiente anche se ha fatto le ha dato diciamo l'occasione di fare il 2-1 al Pordenone alla fine che è uscito a Vecchio così ha picchiato la palla e comunque abbiamo rischiato infatti con l'occasione grandissimo Pisacane quindi comunque diciamo la sufficienza generica anche perché non ha parato mai praticamente non ha fatto una parata anzi l'unica parata che ha fatto poi comunque il giocatore l'ha respinta in porta quindi l'ha respinto diciamo secondo me quella non lo so poteva anche respingerla diciamo meglio l'ha buttata proprio su quello giocatore comunque vabbè il 6 più che giusto per quanto riguarda la coppia difensiva Lucioni secondo me insufficiente e ha preso diciamo anche per colpa sua diciamo abbiamo preso il gollo certo non è che ha fatto una prestazione merda però comunque non è che ha giocato neanche tanto bene qualcosina l'ha fatta buona sì però comunque 5 e mezzo ecco secondo me per quanto riguarda Pisacano ovviamente devastante in difesa un grandissimo acquisto del Lecce di Corvino ha salvato diciamo sulla linea un gol già fatto ha chiuso un sacco di azioni dell'avversario sempre preciso in posizione fortissimo di testa un grandissimo giocatore 7 voto 7 per quanto riguarda Aciapong ha giocato male però forse sarà non lo spero di no alla stagione finita perché c'è un problema al tenere da kill quindi una sufficienza anzi pure di più con tutto il mio cuore ovviamente speriamo che recuperi quanto prima quindi secondo me non ha giocato bene però non voglio diciamo gli do diciamo una sufficienza giusto perché comunque gli auguro il miglior bene perché comunque è un grandissimo giocatore diciamo che lui è molto bravo avanti però dietro un po' in fase difensiva pecca un po' vabbè diciamo che deve imparare è un giovane che deve fare esperienza sicuramente sarà un grandissimo giocatore per quanto riguarda Zuta insufficiente secondo me poi fatemi sapere cosa ne pensate fa qualcosa di buono ma fa un sacco di cazzate sbaglia passaggi Crosso li tira a casa sua direttamente in Macedonia e quindi insufficiente pieno per quanto riguarda Juhlman prestazione super super positiva grandissimo giocatore grandissimo acquisto per ora speriamo comunque che piano piano cresca ha delle caratteristiche tecniche e fisiche comunque già pronte per la serie B e secondo me anche per la serie A però no adesso però più in là perché comunque imposta bene è preciso certo non fa i lanci che può fare Taxidis quello no però comunque specialmente in fase di interdizione rompe molto il gioco avversario ho visto veramente un sacco di salvataggi chiusure precise e tutto piano piano acquisterà sempre più esperienza e migliorerà sempre di più per quanto riguarda Nikolov ovviamente insufficiente però siccome stai da poco tempo qui non ti voglio diciamo criticare più di tanto è una partita insufficiente cioè secondo me ti nascondi un po' dal gioco si fai il compitino il passaggetto la cosa però servirebbe in altro per la serie B per poter aspirare di andare in serie A quindi insufficiente per quanto riguarda Bjorken sei sufficiente Isa Isa secondo me diciamo che ti sto dando fiducia perché comunque sto vedendo che stai migliorando piano piano quindi diciamo Bjorken secondo me non è un giocatore che fa tanti errori fa poco diciamo fa più che il compitino non fa grandi cose non è un giocatore che fa grandi cose tipo Maier Maier non fa grandi cose fa il compitino passa la palla sta lì si fa trovare al giro palla ogni tanto rompe anche il gioco però ci vuole deve essere più veloce è troppo lento secondo me col pallone sotto i piedi ci mette troppo tempo a pensare dove passare la palla deve essere secondo me molto più veloce per quanto riguarda Mancoso ovviamente è sufficiente gli voglio un grandissimo bene onora sempre la maglia lotta tutto però stai un po' spaisato forse perché secondo me sarà stanco sicuramente avrà bisogno di rifiatare un po' perché gioca tutte le partite fino alla fine inizio alla fine quindi secondo me una settimana di riposo li farebbe più che bene per quanto riguarda l'attacco ovviamente Coda 6 e mezzo anche Barra 7 che ha fatto un grandissimo gol poi dopo si è perso un po' ma secondo me doveva essere sostenito speriamo Corvino speriamo capigli un attaccante che non basta Rodriguez perché quell'altro uomo che sto per andare a dire face cagare ste pischi facci cagare porco Giuda manco quando ti rompo i cucchiuni giochi bene comunque l'altra volta ti ho rotto le palle mi hai fatto un gol di tacco speriamo che la prossima partita segnerai tocca a te svegli tocca a te svegli porca puttana una puttana in serie A tocca a te svegli insufficienza piena piena anzi pure di più che piena tocca a te svegli comunque per quanto riguarda il Lecce siamo nei playoff adesso siamo quasi per uscire fuori dobbiamo cambiare marcia come ha detto Corini fatemi pensare cosa ne pensate voi fatemi sapere scusate cosa ne pensate voi perché comunque è così se andiamo così avanti secondo me neanche nei playoff andiamo quindi non è che vi può dare più di tante colpe questo è il Lecce è questo sta giocando con dei giovani di prospettiva però non secondo me questi giovani che ti possono portare così in serie A dell'oggi al domani ci vuole tempo ovviamente è un nuovo progetto in tre anni quindi secondo me piano piano mi sto cambiando idea difficilmente secondo me potremmo andare in serie A direttamente con questi giovani con questa squadra io me lo auguro è chiaro però anche se ci andiamo magari l'anno prossimo questi giovani sicuramente l'anno prossimo se faranno bene quest'anno saranno ancora più forti con qualche altro innesto magari l'anno prossimo possiamo vincere il campionato perché quando parte il nuovo progetto nuovi giocatori anche perché alcuni si andanno a uscire via più di qualcuno ancora e quindi Corina allenatore nuovo quindi ovviamente la società non è che ha tantissimi soldi da spendere giustamente perché comunque stadio chiuso le sponsor e quelle cioè gli introdi sono pochi quindi giustamente ha cambiato politica perché non è che uno può mettere sempre a spendere soldi da potasone è anche giusto la società la politica la società che io la sposo appieno per me poi fatemi sapere cosa ne pensate voi comunque ci vediamo al prossimo video due partite in casa Ascoli e Brescia tutti i dollari non vincere per forza Ascoli e Brescia anche per poter rimanere comunque nei pre-off attaccati comunque sempre ho una piccola speranza per arrivare almeno secondo perché l'Empoli mi sta saluta proprio almeno speriamo che insomma che ce la facciamo ci vediamo al prossimo video sempre e solo forza Lecce Bari merda tutta la vita via